Se le accuse nei suoi confronti non fossero tanto gravi, verrebbe da dire che non c'è pace per il Consiglio Comunale di Vittoria. La polizia ha arrestato Rosario Dezio, imprenditore agricolo di 41 anni che occupa uno scranno all'interno del civico consesso. L'uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti di tre suoi dipendenti e di sequestro di persona. La violenza sarebbe stata indirizzata ai lavoratori rumeni, soprattutto un uomo che il giorno successivo è riuscito a denunciare tutto e a fare scattare le manette. Dai controlli effettuati all'ospedale Guzzardi sono emerse fratture e lesioni gravi che guariranno non prima di 45 giorni. I fatti oggetto dell'indagine della procura di Ragusa si sarebbero verificati il 15 dicembre. Il GIP del Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari, anche se non ha ravvisato il pericolo di fuga. A fare scattare la violenza sarebbe stato il fatto che l'operaio di notte per scaldarsi si sarebbe impossessato di una bombola di gas trovata nel magazzino dell'azienda agricola di Dezio, già nota la squadra mobile perché controllata nell'ambito del contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera. Dezio lo avrebbe picchiato prima a mani nude, poi con un bastone e lo avrebbe minacciato esplodendo alcuni colpi con il proprio fucile, regolarmente detenuto e ora ovviamente ritirato. L'indomani sarebbe tornato a cercarlo e quando lo avrebbe trovato, in un casolare abbandonato, lo avrebbe ricondotto in azienda e sequestrato per due ore legandolo mani e piedi e appendendolo a una trave per immobilizzarlo e colpirlo con un bastone. A liberarlo dopo circa due ore sarebbe stato un familiare di Dezio che avrebbe partecipato alle violenze ed è stato denunciato insieme ad altre due persone, tra cui un altro dipendente dell'azienda. Agli agenti del commissariato di Vittoria, dove la vittima si è recata per sporgere denuncia, è stata raccontata una storia di violenze inaudite non solo nei suoi confronti ma anche di altri due connazionali, picchiati seppur non con la stessa brutalità. Dezio è entrato in Consiglio Comunale con la lista Nuove Idee, subentrando a Fabio Nicosia in quanto primo dei non eletti alle ultime amministrative di Vittoria. Nicosia, dimissionario a seguito della vicenda giudiziaria Exitpol, era stato sostituito a fine settembre da Dezio, che era stato consigliere comunale anche nelle due legislature di Giuseppe Nicosia, tra le fila dei DS prima e tra quelle del Partito Democratico poi.